di essere presenti. Per chi non mi conosce, appunto, mi chiamo Fiorenzo Colombo e sono direttore Bibliolavoro. Bibliolavoro è l'istituto culturale della CIS Lombarda che si occupa in particolar modo di tre aree, l'area documenti, archivi storici e biblioteca, eventi e ricerche l'area della formazione sindacale dei dirigenti sindacali, appunto, questo istituto. Mi piace ricordare però la biblioteca perché in tempi di realtà virtuale e di digitalizzazione le biblioteche stanno venendo sempre meno e fisicamente siamo rimasti una delle pochissime biblioteche sindacali che ci sono nel nostro paese. Lo dico solo e semplicemente per chi avesse qualche idea di fare delle ricerche o di trovare dei testi particolari, noi sicuramente questi testi li abbiamo, siamo forniti in quanto la biblioteca esiste da moltissimi anni e ha ereditato tanti fondi anche di carattere aziendale. Chiudiamo lo spot per Bibliolavoro e entriamo nel merito di questo dialogo appunto sul welfare in azienda, sul welfare contratuale, sul welfare integrativo, sul secondo welfare. Poi con i nostri amici, relatori, ospiti ne parliamo perché anche dietro agli aggettivi ci sono sempre diversi significati anche in relazione alle origini, alle fonti. e è un dialogo importante anche per il contesto in cui questo dialogo si colloca appunto al festival della dottrina sociale che ha come spiccata attenzione e centralità innanzitutto la persona, le persone, perché al centro del welfare e del benessere c'è la persona, ci sono le persone. Non sono molte le occasioni per riflettere di questi tempi. In questa fase di passaggio, di transizione, in cui un mondo è certamente finito, se ne sta affacciando un altro, ma dai contorni molto imprecisi e molto incerti, in quanto in questa fase prevalgono forme di comunicazione più mordi e fuggi, in cui si consumano valutazioni e percezioni decisive sulle vicende della vita in un istante. È una modernità dai molteplici volti quella che stiamo vivendo e quella di oggi è un'occasione appunto quanto mai attuale, anche per diverse ragioni. Sul welfare aziendale, sul welfare integrativo, sul welfare in azienda, come credo sia noto a buona parte della platea in sala, si stanno introducendo importanti modifiche legislative contenute nel disegno di legge di stabilità, anche con le recenti modifiche introdotte dal Senato, con gli incentivi fiscali collegati alle varie forme di sostegno diretto e indiretto, le modifiche al testo unico. Siamo in presenza sicuramente, rispetto ai temi e alla modalità, ad una grande spinta all'innovazione sociale, per dirla con Di Vico, che in questi giorni sul Corriere della Sera è ripetutamente tornato su questo tema. La politica rilancia e sviluppa quanto la società ha prodotto, ma entra anche nelle relazioni industriali, in un modo diretto, sostenendo lo spostamento del loro baricentro dentro le imprese. Però, alla politica, ma soprattutto a buona parte della comunicazione, compresi gli articoli a cui accennavo e ad altri commentatori, spesso sfugge che il secondo welfare, o il welfare integrativo, ruota intorno alla vicenda lavoro. Perché se non ci fosse il lavoro, se non ci fossero i rapporti di lavoro, e se non ci fossero, dico io, le rappresentanze, sarebbe difficile parlare di welfare integrativo, se non partiamo dal lavoro. Quindi attenti a censurare le origini di taluni fenomeni sociali. E' quasi come se la cittadinanza ripassasse un'altra volta dal lavoro. Perché se uno non lavora è difficile che possa godere di un welfare integrativo. La pubblicazione che avete tutti, e che spero abbiate avuto modo di guardare, di leggere, o magari per alcuni di averla già studiata in maniera profondita, ha sicuramente molti pregi. A partire da una semplicità e da una chiarezza, come dire, espositiva, quindi dobbiamo darne atto, in particolare anche alla professoressa Viganò, che è la curatrice principale insieme ad altri. Segnala un modo di guardare la realtà entrando in contatto con essa, non facendo delle teorie, ma attraverso un'indagine. Quindi attraverso un'interlocuzione con la realtà stessa. Osservandola, appunto, indagandola, studiandola, facendo i conti con essa, per trarre indicazioni e considerazioni attraverso il dialogo con i lavoratori, con quel campione di lavoratori che lì è descritto, appunto, segnalando e richiamando anche al sindacato, come dire, all'origine dell'azione del sindacato, al suo rapporto con la realtà. Ma il dibattito è antico. Tutto il Novecento, se mi è permesso, è caratterizzato da storie aziendali, di grandi imprese, da casi aziendali e territoriali con al centro l'integrazione e la protezione sociale dei lavoratori, delle lavoratrici, delle loro famiglie. Mi permetto di citare una pubblicazione del presidente della Fondazione Pastore, Aldo Carrera, che alcuni anni fa, per i tipi di vita e pensiero, quindi per la casa editrice dell'Università Cattolica, ha pubblicato una serie di casi, la ricostruzione di casi aziendali del Novecento, ma anche delle forme di protezione del primo Novecento, delle prime mutue, delle prime società di mutuo soccorso, delle opere sociali, laiche e cattoliche, per la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici. Perché appunto, in quella fase, non si poteva che parlare di opere sociali. Quindi è un dibattito antico, dalla Dalmine alla Pirelli alla Sniaviscosa, ma per stare alle imprese, come dire, come nel caso dell'Enel, e di quello che ne è venuto dopo dal punto di vista societario, è in dubbio che da questi casi ne esce anche un'idea di impresa, oltre che di relazione industriale e di rapporto con i lavoratori. Ricordo che negli Stati Uniti chi cerca lavoro, cerca lavoro regolare, non solo per una questione di stabilità e di dignità retributiva, ma lo cerca innanzitutto preoccupandosi se a quel rapporto di lavoro è collegata la polizza assicurativa sanitaria e quella previdenziale. Perché questo è il criterio del lavoro regolare negli Stati Uniti. Perché di lavori regolari se ne trovano tanti, ma se ne trovano pochissimi che abbiano collegate le forme di protezione sociale. E quindi benessere, appunto, la pubblicazione ruota intorno e viene introdotta da un lavoro su questa parola, su questo benessere. Parola chiave che sta dietro le vicende della nostra vita, dalla salute all'istruzione, alla formazione, dai momenti di bisogno, alla famiglia, alla vecchiaia, alla cultura, alla prossimità. Quindi questioni antiche, seppur attuali, e come segnala la vostra esperienza, mi piace fare un accostamento perché, quando penso alla vicenda di Flaei Cisle, di un piccolo sindacato, rispetto ad altri sindacati che sono molto più grandi dal punto di vista delle quantità associative, però, mi viene in mente mondo piccolo, mondo piccolo di Guareschi. Ma in mondo piccolo di Guareschi, in quella fascia di terra che va dall'Appennino e Emiliano fino all'Oltre Po, Mantovano, sulla fascia destra del grande fiume, quindi una fetta di terra, perché per Guareschi il Po cominciava a Piacenza e finiva e finiva il confine fra Reggio Emilia e Mantovano. In quel mondo piccolo, con i tanti Don Camillo e i tanti Pepponi, si sono fatti grandi cose, perché spiega buona parte della storia del nostro paese. Allora, se mi è permesso questo accostamento, piccolo sindacato, ma che ha fatto e continua a fare grandi cose, perché, e la pubblicazione né testimonianza appunto sono grandi cose e questa responsabilità la dico agli amici della FLA e i CISL, la portate tutta anche rispetto al rimescolamento di carte che sul piano organizzativo probabilmente andrete incontro se confermerete questa vicenda della CISL-Reti nel prossimo congresso o se invece nella vostra libertà e nella vostra autonomia deciderete di rimescolare le carte in altro modo. Vi chiedo scusa dei minuti che vi ho portato via, ma quindi a questo punto dobbiamo dare la parola appunto ai nostri interlocutori, alle persone con cui realizziamo questo dialogo, la professoressa Federica Viganò appunto che è curatrice della ricerca che ha dato origine alla pubblicazione, il dottor Luca Cittadini che è un dirigente degli staff della SOGIN, Luca Pesenti, il professor Luca Pesenti che è docente di sistemi di welfare comparati presso l'Università Cattolica e in sostituzione di Carlo De Masi trattenuto a Roma per vicende di welfare, mettiamolo in questo modo, anche di welfare nella trattativa con l'Enel prima richiamata, appunto Massimo Saotta della Segreteria Nazionale che è interlocutore tra l'altro proprio su questi temi e di questa vicenda in particolare. Professoressa, Viganò a lei la parola. Allora, buongiorno a tutti. Io cercherò di essere abbastanza breve nel presentarvi una ricerca che è stata molto impegnativa soprattutto perché per riuscire a raggiungere un campione come si dice di riferimento sufficientemente significativo c'è stato un grosso impegno sia da parte nostra diciamo del mio gruppo di ricercatori ma anche soprattutto da parte di CISL FLAEI che si è molto molto diciamo attivata per aiutarci nel contattare in modo appunto assolutamente estensivo un grosso numero di lavoratori di tutte le imprese del settore elettrico in Italia. Nello stile di presentazione vi farò vedere dei numeri ho scelto sostanzialmente di non parlare a livello diciamo interpretativo ma di farvi vedere quello che è emerso dalla ricerca perché penso che questo sia il modo più obiettivo per presentarvi un'emergenza appunto di alcuni dati che peraltro riflettono anche alcuni diciamo trend demografici riconoscibili anche al di là ovviamente del settore elettrico di cui staremo per parlare e soprattutto alcune tematiche che sono come diceva anche prima chi mi ha introdotto sono nel dibattito più attuale allora la ricerca è partita appunto su richiesta di FLAEI io lavoro alla Libera Università di Bolzano e sono stata contattata appunto per realizzare insieme a un team appunto allargato di persone che stanno appunto Università di Genova e Università di Sussex eravamo quattro ricercatori che abbiamo diciamo sviluppato questa ricerca e l'intento era una finalità di tipo conoscitivo volevamo capire sostanzialmente quale fosse lo status quo nel settore elettrico in Italia rispetto proprio al tema del welfare ma vado subito diciamo al cuore della questione il tema che noi volevamo toccare affiancato al welfare era proprio quello del benessere faccio un passo indietro per dirvi che questo è un po' il campione non entro in diciamo dimensioni metodologiche troppo approfondite ma voglio soltanto rassicurarvi che la ricerca rispecchia in modo fedele la popolazione di riferimento ossia tutti i lavoratori del settore elettrico poi vedremo cosa significa anche a livello di aziende ma abbiamo coperto sostanzialmente tutte le aziende del settore elettrico in Italia e anche con una ottima e bilanciata distribuzione geografica e l'analisi è partita il 15 settembre del 2014 si è conclusa il 26 ottobre del 2014 le risposte totali come vedete poi ripulito il campione sono 5700 una parola sul benessere una parola sul welfare prima di farvi vedere i dati il concetto di benessere è un concetto che io studio da anni e che è molto interessante è più vicino anche nella percezione nel senso comune a quello di qualità della vita quando parliamo di benessere di benessere ci riferiamo proprio alla qualità della vita di solito negli studi diciamo è spiegato attraverso l'incrocio di due macro dimensioni da un lato è molto facile capire qual è il nostro livello di benessere se lo correliamo a fattori di tipo oggettivo ossia fattori di tipo materiale per esempio fattori tangibili tutto ciò che ci permette in qualche modo di misurare il nostro benessere avere un buon salario avere un buon standard di vita avere una sicurezza lavorativa ma il benessere è un fattore complesso multidimensionale e l'altra dimensione che deve essere compresa è quella soggettiva e questa si riferisce invece a fattori di tipo immateriale per esempio il benessere che dipende dalle relazioni sociali o che dipende da naturalmente uno stato psicologico o che dipende dalla dimensione relazionale ad oggi come dicevo gli studi si sono prevalentemente concentrati sul lato oggettivo perché è più facile anche da misurare ma a dire la verità è molto ormai che si è cominciato anche ad intrecciare le due dimensioni faccio solo presente che anche in Italia c'è un indice di misurazione che è diciamo costruito dal DISTAT che si chiama BESS benessere eco e solidale per cui stiamo cominciando a misurare ciò che è il benessere in questo caso dal punto di vista del cittadino e per quanto riguarda il welfare non spendo troppe parole perché penso che ognuno di voi sappia a cosa ci riferiamo alle tantissime misure che le aziende possono volontariamente o in modo negoziale per esempio grazie alla collaborazione col sindacato possono implementare per migliorare gli standard qualitativi e organizzativi delle attività svolte dai lavoratori per valorizzare le capacità professionali effetti attesi diciamo della vera misura di welfare che funzionano sono la diminuzione dell'assenteismo il rispetto delle esigenze di bilanciamento nella vita familiare e in generale appunto come dicevo il miglioramento del benessere allora la ricerca aveva tre punti chiave capire appunto quali e qui vengo ai dati e non vi parlerò più di interpretazione quali servizi di welfare aziendale vengono offerti ai lavoratori italiani nel settore elettrico e come vengono utilizzati ma anche come vengono valutati dai lavoratori la seconda cosa che per noi ricercatori era massimamente interessante era capire se effettivamente ci fosse una relazione tra i servizi di welfare e il benessere soggettivo o il benessere dei lavoratori e infine un tema rilevante era il ruolo del sindacato cioè come si giocava come si gioca il ruolo del sindacato in tutto questo discorso cerco di essere breve questi sono alcuni dati che descrivono il campione allora questa è la classica parte che descrive a livello socio-demografico il campione sostanzialmente il settore elettrico è un settore più maschile che femminile il campione che ha risposto al nostro questionario ha un'età compresa tra i 35 e i 64 anni vi sto accogliendo gli elementi diciamo con una maggiore evidenza diciamo statistica e in particolar modo tra i 45 e i 54 anni questo ci dice che sono persone appunto che lavorano in azienda probabilmente in posizioni già abbastanza consolidate il titolo di studio mediamente è il diploma scuola media superiore ci sono ovviamente anche laureati post laurea eccetera e tutto questo è correlato in maniera piuttosto equilibrata con i livelli gerarchici all'interno dell'azienda vengo a degli elementi invece chiave per questo discorso sul welfare per lo più il nostro campione è sposato o è in coppia di fatto un altro elemento fondamentale è il fatto che abbia figli tutto questo come vedete riflette un campione insomma che ci possiamo anche immaginare il 65,5% ha figli e l'ultima non so se la riuscite a vedere l'ultima domanda quindi l'ultimo grafico è molto interessante perché abbiamo chiesto ma diciamo delle cure familiari di cui avete bisogno che tipo di cura sostanzialmente è più necessaria e come vedete emerge una cosa molto significativa di quel 31,1% del campione che dice di avere bisogno di cura per i familiari l'evidenza maggiore è sulla cura per gli anziani e non sulla cura dei figli e questo è uno degli elementi che voglio richiamarvi perché è un tratto dei nostri tempi chiaramente perfettamente in linea con quello che ci dice la demografia questa invece è la situazione lavorativa ecco un flash logicamente c'era una grossa prevalenza appunto di Enel come azienda ma come vedete ci sono rappresentate sostanzialmente tutte le aziende italiane in quell'altra che è abbastanza elevato come risultato 10,7% sono comprese davvero anche le micro aziende tutti hanno risposto e il bilanciamento come dicevo a livello regionale è ben rappresentato perché abbiamo circa il 40% al nord il 39% al sud il 23% al centro per cui anche da questo punto di vista è come dicevo equilibrata la risposta questo è un altro elemento importante il tempo in azienda come vedete la maggior parte del campione se pensate all'età che prima vi ho citato è in azienda da lungo tempo da più di 10 anni il 94,6% è full time il 93,3% ha un contratto a tempo indeterminato quindi tutto questo ci parla di un settore molto stabile molto permettetemi di dire sano nel senso che comunque effettivamente garantisce buone condizioni di stabilità ai lavoratori per quanto riguarda la categoria di lavoro ecco che il campione per lo più diciamo è rappresentato da impiegati ma anche da operai erano le due categorie prevalenti i quadri dirigenti sono logicamente percentualmente anche più bassi nella realtà ma abbiamo avuto un numero sufficiente di risposte anche significative e in particolar modo le donne sono concentrate proprio nella categoria impiegati il settore in generale però come dicevo è a prevalenza maschile e questo invece è una visione diciamo di quelle che sono le funzioni in azienda come vedete una grande prevalenza di persone che hanno risposto sono sul livello strettamente operativo manutenzione delle reti attività operative manuali però abbiamo una rappresentanza appunto anche di tutte le altre funzioni aziendali adesso vengo al welfare dunque per fare questa analisi che come immaginate è stato abbastanza complicato perché sono tanti e diversi servizi offerti dalle aziende noi volevamo capire quattro cose che cosa conoscono i lavoratori dei servizi di welfare quali sono le misure che effettivamente vengono diciamo offerte dalle aziende quindi quelle che sono presenti quali sono effettivamente utilizzate perché c'è una differenza logica cioè potrebbero esserci misure che non vengono utilizzate e quali sono le misure non presenti invece per fare questo lavoro le abbiamo clusterizzate cioè abbiamo raggruppato abbiamo fatto delle macro categorie che tra l'altro servono anche come razio per leggere un po' tutte queste diverse misure e quindi se vedete il livello della categoria abbiamo misure che sono sulla flessibilità misure che sono veri e propri servizi i vari mensa buoni pasto il maggiordomo aziendale che molti non conoscevano il sostegno per la cura dei familiari che sono sempre sotto forma di buoni per esempio gli asili aziendali oppure gli acquisti e il tempo libero per cui tutte le attività a sostegno dei figli dei lavoratori le attività di supporto finanziario e quelle di assistenza il risultato vi faccio vedere un altro grafico per me interessantissimo però insomma un po' da interpretare sostanzialmente lo posso diciamo commentare a livello anche un po' più come dire qualitativo c'è una grande conoscenza dei servizi di welfare tra i lavoratori come vedete se partiamo dalla parte in verde i servizi conosciuti sono l'84% quindi seguiamo soltanto questa fascia verde di questo 84% il 61% di questi servizi sono realmente offerti e di questi 61% il 51% sono quelli effettivamente utilizzati quindi vedete che c'è una sorta di diminuzione logica rispetto a ciò che conosciamo ciò che è offerto ciò che è effettivamente utilizzato e questo è stato un risultato rilevante devo anche dirvi che io vi sto presentando logicamente risultati sintetici e complessivi di tutte le aziende italiane se vi presentassi gli stessi risultati spaccati per azienda avreste ovviamente dei profili molto diversi molto specifici però questo risultato è molto interessante poi dirò perché se seguiamo l'altro l'altro versante cioè quello arancione nei servizi che non sono offerti il 61% interessano ai lavoratori quindi c'è qualcosa che non viene offerto ma che interessa ai lavoratori e vediamo un po' adesso queste sono lunghe e complesse diciamo da leggere ma cito soltanto alcuni elementi questi sono i servizi conosciuti e direi che se guardate la parte in azzurro sono sostanzialmente quasi tutti conosciuti attenzione non magari fraintendere non è che non si conosca l'asilo aziendale che è l'ultimo risultato ma vuol dire soltanto che alcune aziende non ce l'hanno quindi hanno risposto non lo conosciamo nel senso che non ce l'abbiamo d'altra parte la varietà delle aziende sul territorio italiano è diciamo c'è molta varietà anche di dimensione aziendale per cui alcune ce l'hanno ovviamente le più grandi altre no come vedete si riconoscono quelli più ovvi un altro risultato era quello sull'uso e questo è molto interessante perché sono chiaramente usati i servizi tipo la mensa i piani pensionistici integrativi la prevenzione assistenza sanitaria ma se scendiamo sono meno usati appunto l'asilo aziendale le consulenze fiscali il part time il telelavoro sono tutte misure non utilizzate utilizzate questo invece è stato ecco questo invece è un'interpretazione lo ammetto nel senso che abbiamo fatto però basata veramente su quello che è emerso diciamo che l'interpretazione è soltanto nell'ultima colonna quella che ho chiamato la policy cioè che cosa possono fare le aziende per rispondere a questo tipo di risultato come vedete qui abbiamo ripreso tutti i servizi e abbiamo visto quali sono quelli offerti utilizzati e di interesse e in particolar modo abbiamo visto alto, medio, basso cioè quali sono quelli che sono molto offerti molto utilizzati e molto interessanti lo vedete sono quelli in verde ne commento solo alcuni che magari sono e soprattutto anche cerco di dare un'indicazione su cosa possono fare le aziende per esempio le colonie estive e le case di vacanza cioè questo è uno di quelli che sono emersi come molto offerti mediamente utilizzati di medio interesse in generale in questa fascia sono tutti i servizi che potrebbero essere consolidati maggiormente dalle aziende oppure se scendiamo nella riga sotto per esempio la banca delle ore mediamente offerta di basso utilizzo ma molto interessante per i lavoratori quindi questo è uno di quei famosi mismatch cioè non c'è una corrispondenza tra quello che è offerto e quello che è desiderato oppure sostegno per la cura dei familiari questo è un diciamo un elemento rilevante offerta bassa probabilmente perché non c'è questo non possiamo dirlo con certezza nelle singole imprese ma non viene dato il sostegno per la cura degli anziani per esempio l'utilizzo è medio ma l'interesse è molto alto oppure le consulenze fiscali e legali adesso non vado diciamo a leggerli tutti perché non ho un commento per ognuno di essi perché ribadisco essendo dati sintetici posso darvi delle risposte ma non possono essere perfettamente diciamo soddisfacenti dal punto di vista di ogni singola impresa mentre invece l'ultima area sono tutti diciamo servizi che per quanto l'offerta sia media e bassa in realtà l'interesse è medio quindi lì c'è un tema di sondare gli interessi quello che voglio dire in generale è che probabilmente molto spesso accade che un'impresa fornisca un piano di welfare cioè una serie di servizi che vengono costruiti a pacchetto e vengono offerti a tutti i lavoratori a volte questo non corrisponde al reale bisogno dei lavoratori e questo è un tema rilevante cioè che le aziende facciano analisi dei bisogni perché è logicamente in questo modo che si può conoscere più a fondo anche se ci sono questioni anche dimensionali nel senso che ci sono aziende così grandi che non possono fare anche se io ritengo che possano in realtà perché ci sono molti metodi un'analisi dei bisogni uno a uno ma si possono fare molte altre cose per comprendere meglio come costruire un piano di welfare ecco qui c'è una cosa rilevantissima qui abbiamo chiesto quanto valutano utili i servizi di welfare e come vedete in generale quella fascia arancione dice che i lavoratori sono d'accordo nel dire che i servizi di welfare sono migliorativi del clima aziendale incrementano il senso di appartenenza e riducono l'assenteismo quindi tre cose assolutamente in positivo sui servizi di welfare ma vi faccio vedere l'altra domanda che è veramente interessante abbiamo chiesto preferireste avere servizi di welfare o un contributo monetario in busta paga e il risultato è più welfare meno contributi monetari il 58% dice che preferisce avere i servizi di welfare questa è la famosa indagine sul benessere complesso da spiegare cerco soltanto di darvi un po' l'idea di come abbiamo dovuto insomma procedere anche da un punto di vista proprio metodologico ci sono alcuni elementi che come vedete sono anche caratteristiche del campione che incidono sul benessere che è stato riformulato secondo tre macro categorie il benessere in generale il benessere economico e lavorativo e quello proprio personale e sociale richiamo solo alcuni elementi tra l'altro se ve li leggessi tutti direste che sono cose ovvie ma naturalmente la bontà dell'analisi è che abbiamo dei dati che ulteriormente possono essere anche molto più incrociati di come li stiamo presentando oggi perché abbiamo fatto una presentazione diciamo complessiva ma in realtà abbiamo proprio la prova che alcune cose incidono in modo significativo per cui vi faccio vedere per esempio essere iscritti al sindacato incide sia sul benessere generale che sul benessere personale e sociale questa è una cosa per esempio importante da sapere cioè le persone che sono iscritte hanno dichiarato di essere in uno stato di benessere più elevato il reddito logicamente incide su tutti e tre le attività extralaborative sono elementi che incidono sul benessere io adesso vi sto dando i dati ma avrei molti modi per spiegare tutte queste cose perché anche la teoria economica ci offre tantissimi spunti su questo i rischi da stress correlato al lavoro non incidono particolarmente sul benessere ma in realtà abbiamo trovato cioè questo come dire un risultato abbastanza macro è anche correlato al fatto che nel settore sono bassi per cui il campione che ha risposto ha anche detto di non avere diciamo particolari problemi correlati ai rischi l'utilizzo delle misure di welfare incide sul benessere ecco non vado oltre perché è molto complesso da spiegare ma perché c'è un ragionamento statistico ed econometrico da fare ma quello che mi interessa molto sottolineare con forza è che l'utilizzo di misure di welfare incide sul benessere perché non era un risultato scontato cioè non lo era proprio quindi infatti il tema del benessere è che ci sia proprio questa ipotesi di relazione positiva tra l'avere delle misure di welfare e avere un benessere dichiarato da parte dei lavoratori l'offerta all'uso di interesse per i servizi di welfare quindi devono essere riletti anche all'interno di questa la luce diciamo di questo risultato che offre ovviamente una spiegazione molto interessante anche rispetto al fatto che viene preferito l'avere delle misure di welfare da parte dell'azienda piuttosto che dei soldi in più in busta paga i lavoratori tra l'altro che hanno risposto al questionario hanno valutato le misure di welfare come utili appunto per il clima aziendale il senso di appartenenza la riduzione dell'assenteismo e a queste funzioni si aggiunge il miglioramento delle proprie condizioni di vita questi sono proprio i veri risultati sul benessere per cui ribadisco fare se dovessi dare uno slogan è fare welfare porta al benessere in azienda ultime cose il ruolo del sindacato forse catturo soltanto alcuni concetti perché temo di essere abbastanza al limite del tempo dunque la cosa più significativa è stata l'indicazione che è emersa in modo piuttosto massiccio che il compito del sindacato è strettamente correlato alla formulazione dei piani di welfare l'ultima domanda che è da leggersi al contrario per ragioni di formulazione chiede il sindacato dovrebbe occuparsi solamente dei rinnovi contrattuali e non di welfare aziendale pochissimi dicono sì la maggior parte dice no dovrebbero occupare deve occuparsi di welfare e le altre cose sono invece più in linea con quello che forse è quello che il sindacato ha fatto e insomma anche negli ultimi anni promuovere iniziative di welfare in collaborazione con associazioni locali sì promuovere senso di solidarietà fra i lavoratori utilizzare strumenti innovativi per aumentare la partecipazione voglio solo dire che questa analisi che abbiamo fatto è stata fatta completamente online quindi con un approccio per me ovvio e non nuovo però diciamo che solo poco tempo fa si facevano ancora i questionari cartacei quindi questa cosa ci ha permesso anche di avere i risultati che abbiamo avuto forse anche per questa ragione ecco concludo lato imprese poi ripeto non ho messo troppi elementi interpretativi ma magari ne discuteremo lato imprese maggiore attenzione alla costruzione dei piani di welfare costruiti in modo omogeneo e su scala nazionale cioè di solito sono dei pacchetti come dicevo invece occorre tenere conto del fatto che i bisogni dei lavoratori possono essere molto diversi da area geografica ad area geografica e anche in base al campione stesso non tutti abbiamo gli stessi bisogni la possibilità di fare analisi dei bisogni c'è lato sindacato sono emerse alcune cose e anche nel colloquio naturalmente con Flai e CISL abbiamo analizzato diversi punti sicuramente c'è un po' il rischio che il sindacato anche alla luce di quello che è stato annunciato prima dei cambiamenti sul piano fiscale e sul piano degli aiuti al welfare il rischio è che divenga consultivo cioè che perda un ruolo attivo e negoziale nei confronti delle aziende sta sicuramente al sindacato monitorare invece che il welfare non venga fatto in modo appunto paternalistico che non venga fatto in modo efficace che non venga fatto in modo che risponda agli effettivi bisogni dei lavoratori la seconda cosa riguarda sicuramente il favorire l'inclusione e la partecipazione di alcuni target che nel campione sono risultati quelli paradossalmente meno interessati alle misure di welfare per esempio emergeva che gli operai pur conoscendo appunto le diverse misure di welfare delle aziende non ne facessero uso non abbiamo potuto andare oltre nel chiedere perché ma c'è un punto c'è un punto di comunicazione aziendale interna c'è un punto di ruolo del sindacato che deve favorire appunto l'inclusione di categorie che sono anche meno scolarizzate perché c'era anche una correlazione molto evidente tra il livello di scolarità e l'uso delle misure di welfare più è alto il livello di scolarità più le persone ne fanno uso il coinvolgimento dei giovani questo è un altro tema che è emerso in modo significativo perché paradossalmente quelli che hanno dichiarato di avere maggiore fiducia nel sindacato sono le due categorie come dire polarizzate in termini di età gli oltre 55 anni e i giovani fino ai 24 anni quindi questo è un dato molto interessante per il sindacato perché forse questa situazione di incertezza in cui viviamo fa pensare ai giovani che il sindacato potrebbe avere un ruolo importante nel farli sentire più sicuri più accompagnati faccio la domanda infine una cosa molto rilevante favorire lo sviluppo del welfare aziendale connesso alle realtà territoriali ossia non fare questi pacchetti appunto preconfezionati ma fare cose anche con i territori nei quali le aziende operano includendo anche soggetti terzi terzo settore cooperative che possono offrire esattamente quelle attività quelle iniziative di welfare che vengono offerte ai lavoratori quindi per concludere dalla ricerca è emerso che c'è un'alta attesa verso il sindacato che ha un ruolo sempre più attivo nel promuovere proprio questo tema specifico io non aggiungo altro sono chiaramente disponibile per rispondere alle vostre domande spero che la presentazione sia risultata chiara l'intento era quello appunto di avervi dato i puri dati grazie bene grazie alla professoressa Viganò che ha cercato di concentrare in un piccolo spazio una ricerca che invece come avete visto è abbastanza corposa dottor cittadini Sogin Sogin è una delle imprese che ha partecipato con un proprio campione lavoratori ma come dire in qualche modo rappresenta il fronte imprenditoriale e quindi le chiedo come reagisce rispetto alle diverse dimensioni alle questioni che sono state poste anche rispetto all'idea di azienda rispetto all'idea del rapporto con il sindacato con i lavoratori come la vede consentendomi una provocazione una grande controparte confindustriale in un recente confronto su un contratto ci ha spiegato sì va bene sussidiarietà bene essere eccetera ma guardate che per noi poi alla fine i costi contrattuali sono costi contrattuali e incentivare il welfare significa anche un costo inferiore per noi perché poi non tutti i lavoratori godono ma è veramente così? Io credo che è stata anche l'indagine che ha presentato la professoressa Viganò mostra come ci sia attenzione da parte dei relatori sullo strumento del welfare piuttosto che il contributo monetario perché siamo un paese che ha una fiscalità talmente elevata che chiaramente laddove è possibile ridurre il famoso cuneo fiscale e i prodotti o formule di welfare sicuramente contribuiscono a trasferire al lavoratore un percepito che è superiore di quello che può avere un livello monetario maggiore e anche l'azienda spesso anche prima dell'intervento innovatore che è presente nella legge di stabilità aveva anche una capacità di ridurre il costo del lavoro utilizzando strumenti di questo tipo però credo che sia le aziende e qui anche il ruolo del sindacato debba un attimino iniziare a usare più fantasia perché io rappresento un gruppo industriale di circa 1300 addetti che è radicato nel settore elettrico perché siamo una parte di Enel che si è staccata più di 15 anni fa quindi abbiamo sempre avuto una formula abbastanza strutturata di welfare integrativo l'ARCA è un'istituzione che è presente e congenita nel settore elettrico e che dava dei pacchetti prestabiliti anche della partecipazione anche con consultazione delle rappresentanze dei lavoratori e quindi c'era uno zoccolo minimo che era comunque garantito a livello aziendale abbiamo integrato con dei pacchetti e mi ritrovo molto nella presentazione chiaramente della professoressa e nella sua pubblicazione perché di fatto sono quelli anche i pacchetti che abbiamo noi costruito in misura forse troppo standard troppo legata un po' a senza tenere conto le esigenze dei lavoratori che poi a seconda della regione a seconda dei servizi sanitari che sono più o meno strutturati in una regione piuttosto che un'altra potrebbero necessitare una differenziazione però credo che la sfida sia del mondo delle imprese ma anche delle organizzazioni sindacali sia di superare il concetto di welfare come gettone scusate se la se la volgarizzo così no perché abbiamo parlato del buono dell'asilo la mensa per gli asili i libri scolastici universitari abbiamo tutte formule di intervento io richiamo a gettone io credo che il ruolo delle organizzazioni sindacali e delle aziende sia quello veramente di creare delle modalità nuove di incremento del benessere proprio benessere nel senso come indicato dalla professoressa per chi opera nel mondo del lavoro il tempo libero il tempo libero è un tema è un tema che non si può affrontare soltanto con interventi tipo economico ma bisogna anche fare interventi tipo contrattuale sono poche le aziende intersectoriali non parlano forse di nessuna nel mondo elettrico in cui è permesso lo scambio di parti di flessibilità oraria fra lavoratori è un qualcosa che secondo me dobbiamo ci sono esigenze diverse e siccome la contrattazione collettiva non può diventare su alcuni punti frammentarsi non è vero sia una contrattazione aziendale ma comunque sia su alcuni istituti è abbastanza dobbiamo lasciare spazio magari alle esigenze ai desideri dei lavoratori magari creare strutture che si possa magari scambiare pezzi di flessibilità oraria e questo è una sfida che è fondamentale perché per venire contro anche a quelle esigenze di cura magari degli anziani che abbiamo visto sono più pressanti anche di cura dei figli spesso al di là dell'intervento economico o pseudo economico è un tema anche di poter fruire di maggior tempo in alcuni periodi dell'anno quindi uno strumento anche di flessibilità e di interscambio di pezzi di flessibilità oraria fra i lavoratori è un qualcosa che prima o poi le organizzazioni e il mondo delle imprese devono un attimino mettere nero su bianco io conosco l'esperienza del caso Luxottica che è un po' quello che ha aperto però credo che sia un qualcosa che dobbiamo tutti quanti cominciare è un po' la frontina del nuovo del nuovo welfare perché se rimaniamo troppo legati al buono a quattro la spesa soprattutto in settori che sono grazie anche alle organizzazioni sindacali sono caratterizzati per un livello di protezione elevato l'assistenza integrativa la previdenza complementare gli spazi proprio perché le imprese comunque in attenzione ai costi ce l'hanno sono difficili invece dobbiamo usare la fantasia nella contrattazione io non credo nel sindacato come organo consultivo questo in nessun istituto o tantomeno quando parliamo di welfare integrativo io credo che il sindacato ha un ruolo di propositivo e di contrattazione su questo e soprattutto anche di fantasia perché spesso le imprese sono più chiuse di fronte alla possibilità di arricchire l'offerta di prevedere istituti nuovi ma spesso anche le organizzazioni sindacali rimangono ancora troppo troppo chiuse su alcuni istituti il part time io faccio la battaglia del part time ma da una vita ormai ormai sono anche un po' stancato perché è un istituto che noi in questo paese no io non so se ci sono indagini non si sa che come mai non riesce a avere la sua diffusione io credo che sia legato non a una questione economica ma proprio una questione di atteggiamento verso anche la manzione che uno svolge nell'organizzazione molto anche a livello di lavoro molto paternalista cioè c'è un meccanismo non legato alla professionalità e alla manzione nell'organizzazione ma proprio un attaccamento che ha degli svolti possibili svolti negativi in questo senso rende la partecipazione quasi non sostituibile e questo che frena secondo me lo sviluppo e part time perché un'altra frontiera sempre in termini di welfare è quello di creare spazi di tempo libero per chi si avvicina all'edà di uscita di pensionamento perché poi non è che ci sono soltanto le aziende come Enel che possono investire risorse finanziarie così rilevanti per operazioni di uscita eccettivana e spesso bisogna creare delle meccanismi di uscita diciamo con la contrattazione collettiva che possono prevedere magari una riduzione progressiva dell'ora di lavoro man mano che ci si avvicina all'età e quindi che dà spazio ma adesso c'è anche delle agevolazioni fiscali e contributive che permette anche all'azienda magari di mettere delle risorse per permettere a compensare quello che il lavoratore potrebbe perdere e nello stesso tempo dà spazio per l'inserimento di giovani questa è una frontiera che noi dobbiamo anche questo è welfare perché dobbiamo benessere e il benessere è che non abbiamo soltanto i gettoni ma abbiamo una grande fantasia che le parti sociali intorno al tavolo possono sviluppare e possono tradurre in strumenti nuovi innovativi per permettere di aumentare il benessere con la B maiuscola grazie 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 mi permetto solo un brevissimo commento questa vicenda del part time perché in una recente conversazione con alcuni direttori del personale ci hanno confermato che in realtà è più una è più un complesso di inferiorità di fronte ad una complessità organizzativa da gestire più che un fatto economico ma anche gli stessi direttori del personale però in definitiva ci hanno detto probabilmente c'è anche un problema culturale perché per esempio la maternità è il fatto organizzativo più prevedibile di questo mondo e quindi venendolo a sapere almeno 20 settimane prima hai tutte le possibilità per rispondere sul piano organizzativo alla presunta complessità sono gli infarti che non sono fatti organizzativi prevedibili professor pesenti appunto dell'università cattolica che non solo docente di sistemi di welfare comparati quindi anche lui un esperto del settore ma professor pesenti si è implicato in alcune ricerche anche in alcune iniziative formative della stessa CISL sia sui temi del welfare ma in particolar modo ha curato per la CISL una poderosa ricerca sulla figura dei delegati e dei rappresentanti nei luoghi di lavoro dove probabilmente qualche nesso con i temi di cui stiamo parlando c'è Luca grazie Fiorenzo grazie dell'invito io credo che anche alla luce delle cose che ci dice questo interessante lavoro questa ricerca siamo nel tempo dell'apertura di alcune grandi domande rispetto al welfare aziendale ed è un tempo prezioso e rilevante alla luce del fatto che come è stato detto dall'anno 21 noi ci aspettiamo un'esplosione del welfare aziendale in questo paese perché la legge di stabilità in discussione di fatto ha dentro alcune norme che saranno assolutamente rivoluzionarie il giorno in cui Renzi ha annunciato queste norme ero a Firenze a un convegno di un'industria dove c'era Gigi Petteni e Gigi Petteni in quell'occasione l'ho sentito trionfante perché come dire si aprivano nuove prospettive su cui la CIS desiderava essere protagonista e questo mi sembra come dire un grande momento proprio di riflessione in cui porsi alcune domande che secondo me in modo esplicito o in modo implicito dalla ricerca vengono fuori abbastanza bene adesso io proverò a dirvi alcune cose sinteticamente diciamo questa ricerca si inserisce in una storia recente degli ultimi due o tre anni in cui finalmente cominciano a essere lavori di tipo quantitativo dopo che per anni abbiamo lavorato solo su best practice e quindi su singoli casi solitamente sempre gli stessi su cui continuavamo a ragionare dicendo ma come sono bravi ma come sarebbe bello se Luxottica è uno di questi se queste esperienze potessero crescere adesso i dati quantitativi ci dicono che queste esperienze sono cresciute e dal primo gennaio del 2006 noi ci attendiamo una vera e propria esplosione allora io vorrei porre qui due questioni una va dietro a quanto è già stato detto cioè qual è il ruolo del sindacato e la seconda è però osservare e ragionare attorno alle potenzialità non soltanto alle potenzialità positive ma ai problemi che evidentemente il welfare aziendale pone il tutto annetto del fatto che secondo una nota classificazione di Ferrera il nostro modello italiano di welfare è un modello così definito come occupazionale misto nel senso che storicamente è un modello che nasce avendo prevalentemente interventi di welfare di natura occupazionale cioè collegati al posto di lavoro appunto la previdenza la maternità l'infortunistica è tutto interno al posto di lavoro la sanità che è il tipico meccanismo di tipo universalistico arrivata molto dopo nel 1970 arrivato il sistema sanitario nazionale ed è come dire sul fronte fiscale come norma di finanziamento quindi in qualche modo con la diffusione del welfare aziendale siamo perfettamente dentro una storia quindi non c'è evidentemente nulla di clamorosamente rivoluzionario ma certamente lo spostamento dal primo secondo livello di contrattazione pone una sfida pone una grande sfida e la prima sfida che pone evidentemente la pone al sindacato su questo la storia della Cisle mi pare evidentemente molto meglio attrezzata rispetto ad altri sindacati da cogliere evidentemente l'occasione della contrattazione di secondo livello ma ecco il primo punto su cui io voglio fare un'osservazione è questo attenzione a non pensare che una volta che la legge di stabilità avrà risolto il problema della norma che storicamente rendeva molto complicato fare welfare aziendale contrattato perché in realtà è una norma degli anni 80 che era molto finalizzata a un quadro di contrattazione di primo livello e lasciava sul secondo poche cose e prevalentemente per le grandi imprese perché il vincolo del 5 per 1000 del monte contributivo evidentemente permetteva solo alle grandi imprese di fare welfare contrattato e di farlo prevalentemente solo sul lato education lasciando fuori quasi tutto quello che noi chiamiamo welfare che deve essere fatto tutto in condizioni di volontarietà la norma della legge di stabilità toglie questa distinzione tra articolo 51 articolo 100 del TUIR e quindi apre una strada e secondo toglie la limitazione anche rispetto al monte contributivo e quindi da questo punto di vista appunto porte spalancate deregulation potremmo dire ma è una deregulation che evidentemente incentiva fortemente la contrattazione di secondo livello questo è il punto allora dicevo sarebbe un errore però da parte del sindacato dire come dire abbiamo vinto è fatta davanti a noi abbiamo magnifiche sorti e progressive il tema non è così scontato perché è stato segnalato dalla collega il sindacato ha un potente competitor anche se magari non lo sa e i potenti competitor sono i provider privati fornitori privati di menu di pacchetti a menu di servizi di welfare che loro vanno a vendere alle aziende come elemento preconfezionato sono dei competitor da due punti di vista secondo me il primo punto di vista è già stato detto perché come dire sono loro a fare l'analisi dei bisogni di solito e come fanno l'analisi dei bisogni non la fanno andando a sentire uno per uno i lavoratori ma la fanno in base agli elementi sociodemografici e amministrativi che l'azienda ha già in casa su questo fanno dei cluster omogenei e su questi costruiscono il piano di welfare il risultato finale l'ha fatto vedere molto bene è che c'è un differenziale molto rilevante tra il desiderato e il ricevuto primo elemento secondo elemento c'è un differenziale molto elevato tra i rischi i nuovi rischi sociali e i vecchi rischi sociali la cosa che mi colpisce sempre guardando i dati aggregati quantitativi è che il welfare aziendale oggi è molto diffuso sui tradizionali rischi a cui in realtà almeno in parte il welfare ha già dato risposta in termini pubblici pensioni e sanità sono i primi due welfare elementi di welfare pubblico a cui ha risposto lo stato sociale e sono anche i primi due più diffusi in termini di welfare aziendale ma il welfare aziendale è molto debole sui nuovi rischi sociali molto debole sui servizi alla persona molto debole lo è stato detto sugli anziani molto debole sui servizi di conciliazione eccetera in generale su tutti gli elementi time saving come si dice tutto ciò che permette di risparmiare tempo dal punto di vista del lavoratore allora primo pezzo del problema cioè facendo un'analisi di bisogni fatta in questo modo con i provider che hanno un conflitto di interessi perché ti fanno un'analisi di bisogni per poi venderti quello che hanno già pronto evidentemente e non per venderti ciò che c'è effettivamente di interesse per il lavoratore otteniamo un modello di welfare aziendale che ha delle caratteristiche molto simili al modello di welfare pubblico come configurazione dei servizi e così come il modello di welfare pubblico sta fallendo nella capacità di risolvere e di gestire i nuovi rischi il rischio anche del welfare aziendale di fare lo stesso quindi primo elemento il sindacato ha un potente competitor e quindi non può giocare una partita di risulta ma deve giocare una partita dal mio punto di vista come dire di assoluto protagonismo lo è stato detto creatività innovazione capacità di stare sui tavoli capacità di fare proposte di essere i driver dell'innovazione dal punto di vista del welfare e di non subirlo il welfare aziendale dal punto di vista appunto dell'azienda ma seconda questione molto importante questo modello dei provider è un modello fortemente individualizzante di fatto è un modello che permette all'individuo e questo è il suo punto di forza di personalizzare per quanto possibile però e lo abbiamo visto il proprio pacchetto di elementi di welfare rispetto alle proprie esigenze poi non ci riesce tra l'altro ma promette diciamo di personalizzarlo fortemente sartorialmente come direbbero gli inglesi sulle spalle della persona ma dall'altra parte individualizza cioè individualizza la gestione del rischio che invece il tratto tipico del sindacato è quello di averlo socializzato e quindi evidentemente questo processo di individualizzazione del rischio non soltanto può dare una risposta all'individuo ma rischia anche di lasciarlo da solo questo è un tema generale diciamo così di tutte le riforme dei sistemi di welfare anche di quello pubblico quando spingono sul fronte della scelta io sono peraltro un sostenitore adesso non voglio essere mal compreso sono un forte sostenitore della scelta da tutti i punti di vista ma sono anche un forte sostenitore del fatto che la scelta vada accompagnata che non si possa lasciare la persona da sola rispetto alle scelte che deve compiere anche rispetto alle scelte del welfare aziendale quindi prima serie di indicazioni seconda questione tutte le ricerche ci stanno segnalando che la diffusione del welfare aziendale essendo stata molto a macchia di leopardo ha in qualche modo potenziato alcuni elementi di diseguaglianza tradizionali per esempio quello tra nord e sud del paese ha introdotto anzi ha potenziato un'altra forma di diseguaglianza quella tra insider e outsider e quella tra lavoratori delle grandi imprese e quella delle piccole imprese e io aggiungo un quarto elemento su cui si fa molta poca attenzione qui qualcosa effettivamente ho visto in questa ricerca allarga l'oiato tra differenti diciamo così gruppi all'interno delle aziende perché se andiamo a vedere i soldi che vengono spesi in media dalle aziende sugli operai sugli impiegati sui quadri e sui dirigenti io ho una stima di un differenziale che è 1 a 10 cioè il welfare aziendale dato agli operai vale 1 e il welfare aziendale dato ai dirigenti vale 10 evidentemente qui c'è un problema di ridistribuzione come dire di rafforzamento di una ineguale ridistribuzione dal punto di vista di questi elementi tutto ciò vuol dire che dobbiamo dire come dire che dobbiamo essere preoccupati di questo io non sono tra coloro i quali dicono ciò io sono fortemente un sostenitore dello sviluppo del welfare aziendale ma sono anche fortemente sostenitori del fatto che di fronte a un forte sviluppo che verrà è opportuno attrezzarsi avendo in mente quali sono i rischi quali sono i problemi e quindi dove bisogna fare maggiore attenzione perché altrimenti questi rischi diventano come dire facile arma da parte degli avversari del welfare aziendale anche sul fronte sindacale che come dire preferiscono in realtà i trasferimenti monetari al welfare aziendale proprio in ragione anche rispetto a queste difficoltà allora ultimi punti ancora tre minuti Fiorenzo quali sono i tre grandi elementi sistemici su cui siamo chiamati a riflettere è chiamato a riflettere il sindacato sono chiamati a riflettere gli analisti delle politiche pubbliche come il sottoscritto prima questione il tema della territorializzazione il sindacato può essere un formidabile elemento di diffusione territorializzata di esperienze che oggi sono puntuali su singole aziende in Italia abbiamo già una serie di casi anche qui attenzione perché ci sono casi di costruzione di distretti di welfare assolutamente autopoietici dal punto di vista delle imprese pensiamo al caso famoso caso giunca di tradate del Varesotto dove attorno a una grossa azienda chimico-farmaceutica si è creato un mini distretto di una dozzina di aziende anche di piccole dimensioni che hanno costruito un mini distretto mettendo a fattore comune le proprie risorse umane ed è nato un distretto di welfare così lo definisco io ma i sindacati sono stati assolutamente tagliati fuori da questa costituzione da questa emergenza distrettuale altro modo invece è quello che è accaduto per esempio qua vicino a Padova dove c'è l'esperienza di welfare net dove un ente bilaterale caso molto interessante l'ente bilaterale del Veneto del Friuli Venezia Giulia del commercio se non mi ricordo male sfruttando un bando europeo ha messo insieme una rete di soggetti e si è buttato sulla produzione di servizi di welfare aziendale un ente bilaterale interessantissimo punto di congiunzione tra primo e secondo livello di contrattazione tra l'altro a livello di welfare che io sto analizzando perché mi sembra un caso assolutamente profetico potremmo dire altro modello è il modello di Reggio Emilia per esempio dove un'industria di Reggio Emilia con un provider con delle cooperative sociali e quant'altro proponendo al sindacato e il sindacato in specifico l'altro grande sindacato diciamo così non è entrato in questa rete secondo me sbagliando da un punto di vista diciamo dell'analisi strategica di quello che è accaduto l'ipotesi è proprio quello di costruire anche lì un distretto di welfare aziendale in cui grandi soggetti di secondo livello rappresentano i driver per la comunicazione tra le imprese per la costruzione delle reti insomma i modelli sono tanti anche qui attenzione perché su questa modellistica il sindacato deve giocare una partita dal mio punto di vista proprio in relazione alle cose che ho appena detto seconda questione presidio dell'analisi dei bisogni l'abbiamo detto e va ripetuto il punto dove il sindacato deve giocare la partita è quello una battuta rispetto alla ricerca che tu mi hai imboccato Fiorenzo ricerca sui delegati lombardi della CISL c'era un box di domande sul welfare aziendale impressionante notare che su 680 casi di welfare aziendale di cui hanno parlato i delegati nella metà di questi casi non è stata fatta nessuna analisi dei bisogni sui lavoratori e nell'ulteriore metà di questa metà è stato coinvolto il sindacato quindi il sindacato è stato coinvolto in un caso su quattro sostanzialmente di piani di welfare aziendale questo dato mi pare un dato che interroghi fortemente le rappresentanze sindacali perché lasciare libero campo alle imprese su questo piano secondo me non è neanche un buon affare dal punto di vista dell'impresa perché se l'impresa sbaglia a fare l'analisi dei bisogni sbaglia anche a fare il piano di welfare e se sbaglia a fare il piano di welfare spende male i propri quattrini ma certamente non è un bel modo di ragionare nemmeno dal punto di vista del sindacato rimanere fuori da queste partite terza e ultima questione questa è molto più complicata l'accenno soltanto il prossimo futuro dovrà vedere impegnato chi ragiona su questi temi dal mio punto di vista su una necessario tentativo di ripensamento in senso integrato di ciò che oggi noi pensiamo come diviso hai fatto prima accenno Fiorenzo al termine secondo welfare noi oggi ragioniamo come se ci fosse un primo welfare che va per la sua strada è un secondo welfare che va per la sua strada abbiamo fortemente bisogno di leggere le interconnessioni come la storia del sindacato aiuta gli enti bilaterali sono nati così cioè sono nati come dire andando a vedere dove le categorie avevano difficoltà ad accedere sugli strumenti del welfare pubblico e costruendo a specchio in negativo in realtà costruendo servizi di welfare bilateralizzato quindi occupazionale di primo livello per quei lavoratori che non potevano accedere a quelli pubblici in qualche modo abbiamo bisogno di un ripensamento che faccia come dire venga aiutato da questa storia un welfare aziendale che replica il modello di welfare pubblico non è un buon aiuto per nessuno un welfare aziendale che invece sa leggere è un welfare contrattuale o occupazionale che sa leggere quello che sta capitando sul primo livello di contrattazione e quello che sta capitando sul primo welfare per usare la terminologia di Ferrera cioè sul welfare pubblico ha maggiore probabilità di saper integrare la propria proposta di saper rileggere se stesso in senso riflessivo modificandolo sulle effettive esigenze dei lavoratori che non sono coperte neanche dagli altri fonti di welfare mi fermo e vi ringrazio grazie professor Pesenti a proposito di Reggio Emilia vi ricordo che gli ultimi due leader della FIOM vengono da lì sempre per non dimenticarci per stare un attimo sempre e fare in essi con la realtà beh a Massimo Saotta della segreteria nazionale della FLAEI insomma gli interrogativi sono tanti gliene pongo anch'io uno così a modo di scegliere nel concludere questo dibattito rispetto alle tante sollecitazioni poste non solo dalla ricerca ma anche da Sogine e dal professor Luca Pesenti avendo la fortuna di avere una biblioteca nelle mie aree ogni tanto i miei collaboratori mi sottopongono dei malloppi degli iscritti e mi è capitato di vedere la copertina del magazine del Corriere della Sera che una volta usciva il giovedì che si chiamava Sette non so come si chiama adesso non voglio fare pubblicità comparata ma in un numero esattamente di 19 anni fa la copertina di questo magazine era intitolata La fabbrica delle coccole e nel scrivere questo megatitolo nel centro della copertina il servizio che questo magazine riportava era sostanzialmente la storia di tutte le multinazionali che hanno sede a Milano e che negli anni 90 già proponevano il bollo della patente pagato perché una volta c'era il bollo della patente il servizio psicologico 24 ore su 24 una serie di servizi appunto per coccolare i lavoratori e per magari dirgli che se non si iscrivono al sindacato è meglio c'è qualche nesso fra queste vicende e il proselitismo? Massimo Grazie Fiorenzo per me gioco la mia difficoltà nel sostituire le masi qui poi mi hai ricordato prima del fuso orario che è molto diverso fra il Veneto e il Molise insomma sono a meno due ore e mezza quindi ci metti anche questo va bene no io per chi è del settore elettrico è difficile parlare di welfare perché corre un rischio di dare cose per scontate perché da noi il welfare è cosa antica quasi strutturata nel sistema nasce negli anni 50 non è un regalo un privilegio nato con l'ende nazionale molto spesso qualche cronista fa un po' di confusione sulla storia perché forse non la sa bene è sempre stato legato a quella logica che le parti hanno avuto che Becchetti nella postfazione chiama non riduzionista perché abbiamo sempre avuto bene chiaro in mente un concetto che una società civile una società evoluta si caratterizza per il livello di welfare cioè la differenza fra noi fra l'Italia l'Europa e un paese magari del centro Africa è stato tutto lì però e quindi io credo che uno dei motivi per cui abbiamo fatto questa ricerca era quello di capire innanzitutto capire quale ruolo del sindacato la professoressa l'ha detto poi abbiamo fatto tanti discorsi con la professoressa durante gli incontri che hanno preceduto la realizzazione di questa ricerca perché c'era quasi una sorta di complesso da tutte le parti il sindacato è in crisi il sindacato è in crisi ha detto vabbè cerchiamo di capire uno dei motivi per cui questa crisi e indirettamente abbiamo sondato che il sindacato non è in crisi cioè non è il ruolo del sindacato che è in crisi molto spesso sono in crisi le proposte e il welfare è un tema è una proposta che può rimettere insieme i lavoratori del sindacato e quindi risponde anche indirettamente che c'è anche la questione del proselitismo è chiaro che le aziende molto spesso attraverso una serie di attività di people care tendono a erodere soprattutto le grandi aziende erodere spazi che di norma da meno nel nostro settore da sempre sono stati in mano non dico al sindacato ma comunque sono stati oggetto di una negoziazione con le aziende e questo è un passaggio importante rispetto al quale c'è una discussione in atto anche nel nostro settore ma altro motivo per cui abbiamo fatto questa ricerca sarà quella di ascoltare non più decidere a tavolino quali sono le cose da fare che sono importanti ma ascoltare la gente non è cosa poco perché non siamo abituati come sindacato a fare queste cose più volte pensiamo di avere la verità in tasca e quindi pensiamo di fare invece questa volta abbiamo cambiato proprio il paradigma ascoltiamo cerchiamo di capire cosa vuole la gente anche questo mi sembra che la ricerca della professoressa Vicano è stata molto molto esaustiva insomma nell'indicare quali sono le nostre carenze e quali sono le nostre attività che dobbiamo fare quindi con orgoglio possiamo dire che nel nostro settore abbiamo un primato nelle risorse che dedichiamo all'warfare nel settore industriale non conosco aziende che versano oltre 700 euro nell'assistenza sanitaria integrativa che è un limite guardate che è anche lontano però dall'altro limite che pone il testo unico sulle imposte che è 3.600 euro per cui abbiamo dei margini enormi perché mentre il margine sulla previdenza complementare attraverso una serie di iniziative inizia ad essere eroso questo qui è molto lontano qui abbiamo dei spazi enormi di crescita così come fiscalmente abbiamo qualche problema sul discorso che diceva prima il professore del famoso limite dell'articolo 100 su attività ricreative che favorisce molto le grandi aziende ma crea grosse difficoltà alle piccole e medie aziende qui noi abbiamo un sistema di welfare che da questa ricerca risulta essere largamente apprezzato e anche utilizzato se pensiamo al nostro fondo di previdenza complementare ai Fopen abbiamo oltre 9 addetti su 10 che sono iscritti e che quindi utilizzano questi servizi per capire che forse nel settore industriale solo altri due fondi hanno queste cattistiche quello dei quadri Fiat ma sono 4 gatti e quello dei piloti anche lì sono tantissimi quindi abbiamo un tasso di adesione che è davvero elevatissimo e il fondo sanitario anche questo è utilizzato da 8 lavoratori su 10 se non ricordo male i dati quindi capite che questa cosa qui è più complessa è stabilire la questione sulle attività ricreative perché sono diversificate e soprattutto sono gestite in maniera diversa secondo le varie aziende perché molte aziende non abbiamo i circoli ricreativi che sono circoli aziendali che gestiscono queste cose è più difficile andare a riprendere un po' le cose quindi io credo che questa cosa qui ci devono far capire alcune questioni che hanno posto bene anche i professori innanzitutto potenziare la diseguaglianza cioè il rischio grosso è che spesso queste cose vengono viste da chi ci guarda all'esterno come un privilegio dimenticando che questa è tutta contrattazione è un parte di salario che viene destinato a un bene comune a un bene lavoratore rispetto rispetto a un salario diretto però la ricerca ci fornisce anche indicazioni chiare è una richiesta forte di servizi alla persona e alle famiglie e soprattutto ci fa capire che il concetto di welfare va allargato alla conciliazione ma allargato la conciliazione deve stare dentro il concetto dobbiamoci fuori da quell'ambito a cui spesso siamo legati che è l'assistenza sanitaria l'assistenza previdenziale e le attività ricreative lo dobbiamo andare oltre quindi questa è una grande scommessa guardate anche il tempo in cui abbiamo fatto questa ricerca non è stato casuale la possibilità di economia può essere stimone abbiamo forzato su questi tempi perché ci interessava forcire questa ricerca a monte di due eventi il primo evento è stato citato il rinnovo contrattuale ma l'altro evento è uno dei motivi per cui oggi non c'è Demasi qui perché fra i vari verbali che oggi dobbiamo firmare c'è anche quello su welfare per la riforma del welfare nell'azienda più importante quindi era anche studiato il tempo in modo per fare questa ricerca il senso quindi welfare essendo una serie di misure che non si limitano a fornire un sostegno a reddito ma sono una vera e propria fonte sussidiaria possono rilanciare anche il sistema Pese non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista personalizzante occupazionale infatti il welfare contrattuale e quello aziendale devono marciare di pari passo il livello nazionale al compito di definire gli aspetti relativi alla previdenza e alla sanità integrativa mentre a livello aziendale sanno sempre più necessarie risorse risorse per dedicare proprio a quelle cose che abbiamo detto prima in particolare al bilanciamento dei tempi di vita e dei tempi di lavoro questo penso che sia un qualcosa che anche prima sottolineavo al dottor Cittadini è un'attenzione forte che hanno anche le aziende è uno dei temi in cui spesso le aziende ci scavalcano a pensare a quello che alcune iniziative che ha fatto Enel recentemente quindi il sindaco si deve impegnare anche a un altro elemento perché spesso noi siamo riusciamo a dare un grado di copertura elevato nelle grandi aziende ma il nostro settore si è sempre più frammentato e ci sono tante piccole aziende rispetto alle quali non riusciamo a dare un livello adeguato di welfare aziendale poi ci sono tutte quelle cose che ha detto la dottoressa cioè un buon livello di welfare sicuramente aumenta la produttività riduce l'assenteismo quindi serve anche a fidelizzare il lavoratore e soprattutto serve anche a ridisegnare i rapporti fra le due parti in causa il sindacato e le aziende in una prospettiva vera di partecipazione che è uno degli altri elementi rispetto ai quali noi ci stiamo da anni battendo in questo ruolo quindi di sviluppo anche occupazionale anche di investimento è fondamentale in questo concetto il ruolo dei fondi di pensione fondi di previdenza che non solo serve eliminare il conflitto generazionale che è venuto a creare i pensionati di oggi sono visti come dei privilegiati rispetto ai pensionati e ai pensionati domani e questa è una cosa che non è molto carina l'abbiamo visto anche al tavolo della giattaria di questi giorni su questi temi qui quindi l'evoluzione del secondo pilastro della previdenza la maggior diversificazione di investimenti la maggior trastazione dei investimenti nelle previdenze complementari pongono delle sfide che vanno affrontate l'adesione contrattuale obbligatoria per esempio con il contributo aziendale ai fondi è uno degli elementi importanti che noi abbiamo posto al tavolo ampliare l'adesione a categorie potenziali limitrofe per aumentare la massa critica dei fondi e far sì che si possa ridisegnare anche un investimento in economia reale e non soltanto virtuale è un altro degli elementi che abbiamo posti sul tavolo io credo che la scelta vincente è quella che la faremo se riusciamo a coniugare due elementi le esigenze degli aderenti ai nostri fondi al nostro sistema di welfare e le esigenze del paese sia perché noi ci possiamo proprio proporre attraverso questi fondi come investitori di riferimento dell'economia reale e nelle aziende del settore e semmai vennerà bisogno che il welfare contrattuale e quella aziendale sono legati all'economia questo vale ancora di più per il nostro settore perché il nostro settore è un settore che opera in un servizio pubblico di interesse generale per cui anche qui è fondamentale che ci sia questo setto legame fra i nostri strumenti di prevedenza comunitari il nostro sistema di welfare e l'interesse generale del paese grazie bene grazie grazie i nostri relatori i nostri ospiti grazie a voi se dato che non c'è tempo per fare delle domande perché l'appetito preme nelle bocche dello stomaco e si vede da certi volti vi chiedo scusa della libertà che mi prendo chi intende porre questioni domande eccetera come dire i nostri interlocutori sono disponibili a rispondere attraverso le loro mail entrando nei siti di SOGI in Flaia e CISL Libera Università di Bolzano e Università Cattolica troverete sicuramente gli indirizzi mail dei nostri interlocutori che si rendono disponibili a rispondere alle questioni e domande che intenderete porre grazie e arrivederci al prossimo evento in questa sede grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti